La sera di San Lorenzo 2023, ovvero la notte del 10 agosto, rappresenta il momento ideale dell'estate in cui è possibile ammirare le stelle cadenti. Questa notte affascinante attrae milioni di persone che si ritrovano a scrutare il cielo per godere dello spettacolo unico delle stelle che scintillano nel loro volo luminoso. Tuttavia quest'anno i momenti migliori per osservare questi fenomeni sono iniziati già nella seconda parte di luglio raggiungendo l'apice intorno al 13 agosto. Ma cos'è esattamente la notte di San Lorenzo e qual è l'origine della storia che la caratterizza? La tradizione trae origine da una leggenda, nello specifico quella del martirio di San Lorenzo, il quale fu arso vivo su una graticola. Si narra che nel momento della sua morte la forma delle stelle cadenti ricordasse i tizzoni ardenti che hanno portato il santo alla sua morte. Tragica fine Tragica fine